Ottime notizie dalla Regione Abruzzo. Arrivano fondi per il piano chiese, numerosissime le chiese, comprese in questa sorta di riqualificazione, compreso il Duomo di Atre, che finalmente potrà vedere nuovamente la riapertura della Porta Santa. Sì, c'è un vivo interesse da parte delle autorità regionali e da parte anche della Commissione Nazionale. Abbiamo già fatto sette incontri con Errani e i rappresentanti anche del Ministero dei Beni Culturali. L'interesse della Regione diventa ancora più importante dal momento che, purtroppo, non avendo avuto vittime, grazie a Dio, nella zona di Terramo, come voi potete vedere, l'attenzione nazionale è calata. Ma la situazione rimane sempre abbastanza preoccupante, perché nelle zone di montagna ci sono diverse chiesette, a parte che questi luoghi sono scassamente abitati. Per cui, là dove c'è un nucleo maggiore di abitanti, bisogna fare il possibile per restaurare, per riprendere un po' le chiese, i luoghi di culto. E poi, in alcuni punti, in alcuni luoghi, tipo Atri, per la bellezza della concattedrale, anche, per esempio, Campli, che è rimasta completamente senza chiese, e anche nella zona di Rocca Santa Maria, ho fatto diversi giri, ce ne sono due o tre, in modo da assicurare dei luoghi di culto per un raggio di azione, dove le persone che lo desiderano possono avere a disposizione la chiesa per la partecipazione alla messa. Naturalmente i fedeli di Atri, ma non solo loro, sono soddisfatti e felici di poter godere nuovamente dell'apertura della porta santa. È vero che, però questo deve essere chiarito, non si tratta di una dichiarazione di agibilità totale. Sarà ridotta, per quanto è possibile, anche al minimo l'agibilità per rispettare la tradizione della porta santa, ma sono già in corso tutti gli interventi progettuali per un ripristino totale della cattedrale.